Ciao ragazzi, allora, tu come hai inteso questo finale del che schifo, poti dico la mia, al di là di quello che stai a livello produttivo Vediamo quello successivo, cioè The End of Evan, analisi film 1997, ok, vai speriamoci subito questo, sono 19 minuti The End of Evangelion And I can turn back time, cause now the guilt is all mine Ah no, è finito ...la serie del 95 di cui ho già parlato, ho letto i vostri commenti sotto l'analisi qui sul canale e avete praticamente ragione tutti Ho fatto degli errori che menzionerò qui, cercando appunto di apprendere ancora Ah beh, sì, aveva avuto delle dimenticanze, poi ho confuso un paio di personaggi, però vabbè, sempre rompi cazzi sotto nei commenti Ciao da voi, quindi vi ringrazio, avevo palisato appositamente la mia ignoranza per farmi correggere Ed è bello, secondo me, anche tentare di entrare in un mondo che non mi appartiene Io non conosco niente di questa cultura e quindi mi ci sto avvicinando piano piano L'errore principale che ho fatto, voglio dire subito, è stato più che altro un refuso Quindi ho detto che Ritsuko ha ucciso la prima re, in realtà si tratta chiaramente della madre Però spoiler anche qui, madre di Ritsuko che tradisce nuovamente la figlia anche in questo meraviglioso epilogo del loro arco narrativo Hai scelto quest'uomo, hai scelto un uomo o tua figlia Una madre che delude nuovamente la figlia, una persona che è probabilmente genitrice ma non madre Un altro problema adornale, ovvero ho detto che gli Eva sono senza anima Chiaramente ho poi aggiunto, sono incompleti senza pilota ma è sbagliato dato che è tutto Nella serie si basa sul fatto che lo 0-1 abbia l'anima della mamma di Cingy, quindi scusate per la cazzata Però permettetemi qualche errore, considerando anche che l'ho vista una volta sola Beh ci sta, ma infatti Senza il dovuto background, quindi io dico le mie analisi e voi giustamente mi corriggete Andrò ad ampliare quella che è stata la mia critica al finale che ho tenuto appositamente per questo video Dato che si chiama Il finale di Vangelion Giustamente molti mi avete detto, madre, ma in realtà è un finale eccezionale Hanno spiegato più volte che non bisogna concentrarsi troppo Questo è diventato Vangelion, così Il discorso esoterico, religioso, è una roba buttata lì per fare il figo Tu ti sei concentrato troppo su questo, avete ragione Anche se l'ho detto sin da subito che la mia ignoranza in questo campo era abbastanza evidente Quindi ho utilizzato gli strumenti a mia disposizione In realtà tutto questo finale serve per farci vedere Cingy con una sorta di happy ending E convincersi del fatto che anche senza questa sua identità sociale come pilota di Eva Avevo già menzionato nella recensione l'importanza di questo anche con il parallelismo dei militari Ma non solo della bandiera in generale In realtà sarebbe comunque accettato e ben voluto dalle persone Assolutamente sì Però devo dirvi che il finale è problematico non per il senso Che è correttissimo, è anche interessante, è giusto Come avete detto, di sfarsi del superfluo Il problema è che dal punto di vista della struttura narrativa Guardando solo la serie del 95 Senza ascoltare le dichiarazioni di un sceneggiatore Di anno, senza guardare gli altri film Io capisco che voi abbiate la visione insieme Ho cercato di separare tutte quante le opere Si vede che è un finale mal gestito Nonostante il poco tempo a disposizione, il poco budget Quindi, se lo vediamo da quest'ottica È stata una trovata geniale Riuscire a condensare in due puntate tutto quello che c'era Sì, sì, perché poi è sempre una cosa poetica Tutto il cartone è pieno di quei momenti Dove si mangiano i minuti interi Cioè, proprio un minuto zitti Fermi, a bello sfondo Tutti i presenti nella scena Zitti, fermi Per creare un po' di ansia, tensione Molti fermi immagini Tutti sti fatti Le cicale, madonna mia le cicale E il finale, alla fine, fa la stessa cosa E se la giochi in una maniera che sembra tutto tipo metafisico Diciamo, ah, bello Eh, il mondo delle idee Tutto fatto, strano, quello che sì Poi è molto metatestuale Perché è Shinji che reimmagina se stesso Diventa una palla, diventa un pesce Diventa un oggetto, diventa Shinji Ma è anche l'animatore che decide Cosa farlo diventare Tutta una cosa molto particolare La scena del treno infinita Infinitamente finita Poi il treno è ribattezzato Il treno dell'inferno Quelle scene là Bello, sicuramente Però è una stronzata Cioè Alla fine uno voleva vedere delle cose Che non sono proprio arrivate Poi è normale la serie flop E grazie Cioè, frate, tu non hai raccontato niente La gente avrebbe voluto vedere altro La gente avrebbe voluto vedere Cosa accade Invece due puntate Cagemusha, l'ombra del guerriero È un film che ha un momento onirico bellissimo Ma è un solo momento onirico E poi si vede cosa accade Anche al di fuori del sogno Ma se te però non lo racconti Al di fuori della mente di Shinji Ma uno che deve fa' Cioè, io ho capito benissimo In realtà che cosa voleva fare Idea a chi hanno Perché una delle sue più grandi influenze Sono le storie di Tomino Gundam sicuramente Ma soprattutto Ideon Non mi veniva al volo il nome Ideon Space Runaway Ideon Dove ci sono delle cose Che poi tornano in generale Anche nell'immaginario grafico Dello studio Gainax Nella simbologia Di Evangelion Ma anche Nella rappresentazione del finale E il finale di Ideon Praticamente È un finale dove muoiono tutti E esattamente come in Evangelion Che poi è tutto copiato Sfatiamo qualche mito Niente di originale Ideon è un robot Che praticamente doveva essere Una specie di Transformers Perché all'epoca andavano fortissimi I Transformers La Sunrise aveva prodotto Aveva chiesto a Tomino Di fare questa serie Aveva prodotto Ha detto Devi fare il cazzo di giocattoli Hai capito stronzo Quello ha detto Sì 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 Io ti faccio il robot Che si trasforma I giocattoli del cazzo Poi in realtà Fa una cosa proprio Folle Completamente matta È sempre Una battaglia tra Due gruppi In questo caso I buff clan Che sono degli alieni E i terrestri E Ideon in mezzo Questo robot Ma questo robot In realtà è un'entità senziente Che altro non è che Un arca L'altro non è che Una delle due lune Però al contrario Cioè che dovrà raccogliere Uno dei due gruppi Per decidere quale è valido Alla fine Se uno dei due è valido Perché sono delle merde Che si fanno la guerra Quindi Ideon In una maniera totalmente Personale Ammazza tutti Il robot gigante Uccide tutti Fa morire tutti Fa in modo che si ammazzino tutti Si distrugge L'umanità E Li vediamo Volteggiare Nello spazio Azzurro Come il finale Di Evangelion Dove si sveglia Shinji Stanno su questo Cratere Nel cielo Azzurro Bravo bravo Shinji Congratulazioni Congratulazioni Questo Questa roba qua Sì sì Anche il finale Di Devilman È simile a quello Di Evangelion Ma infatti L'aveva dichiarato Proprio Yoshiyo Gitomino Il character designer Della serie Disegnatore Del manga Che lui Almeno così ha detto Domino Lui e Idea Chianno Volevano fare qualcosa Che finisse Come Devilman E infatti poi Insomma finisce così Finisce Bene distrutto Tutta l'umanità E questo poi Noi Allora Graficamente Noi vediamo Una cosa Che riprende Ideon Nella serie Invece Nel film Fanno poi Devilman Ok Nel film Fanno Devilman Il film di cui Si parla Si parlerà In questo video Fanno Devilman E The End Of Evangelion Diventerà Ispirazione Grafica Per Devilman Craybaby A sua volta Un paio di Decine di anni dopo Per conoscere Una cosa giapponese Devi sapere Tutto quello Che è venuto prima Non ti serve altro Serve solo Buona memoria Perché danno si copiano L'uno con l'altro Il problema è che Secondo me Sproporzionato Come costruzione Ora Marra deve dire Devilman Crybaby E deve parlare Di crybaby Quella è una razione lì Quindi il punto Il finale Il senso L'ha capito Ed è chiaro Ed è corretto Come è stato costruito Con questi spiegoni Incessanti Di cose Che in realtà Già erano chiare Precedentemente Tutto il discorso psicologico Di Cingi Era già chiaro Andava bene Quindi il finale Nell'happy ending E questa consapevolezza Che il suo ruolo sociale Comunque ci sarebbe Va benissimo Ma per me è stato Mal strutturato È sproporzionato Anche rispetto al ritmo Di tutta la serie Poi Che sia stato comunque L'ispirazione per altri Che sia espressionista Che sia interessante Quanto volete Vero Però secondo me Vi fate anche influenzare Dal fatto che avete letto Le sue dichiarazioni E avete visto Il resto dell'operato Quindi Alla luce di questo E il fatto che comunque Hanno abbia voluto ribadire Anche in The End of Evangelion Questa soddisfazione Quasi nell'aver deluso I fan mettendo le scene reali Dei fan delusi nelle sale Ci state Questo No questo Allora no In realtà non erano delusi Non erano delusi I fan Questo momento ragazzi È assurdo Questo momento è assurdo Allora cosa è successo That True Second Cioè il riassunto Della serie Se voi Ricordate O sapete All'inizio si chiamava Death and Rebirth Perché Death era Quello che noi Adesso conosciamo Come Death True Second Rebirth Era La prima parte Di End of Eva Quindi quando Al cinema Sono andati a guardare Death and Rebirth Hanno visto Il riassunto E L'episodio 25 25 Primo Chiamiamolo così Per Diversificarlo Dall'episodio 25 Dalla serie tv Quando poi Al cinema Hanno dato Di End of Evangelion Questi qua Che so Giapponesi I più Stacanovisti Del mondo I più bravi I più intelligenti Sono andati a vedere Di End of Evangelion E la prima parte Cioè l'episodio 25 Primo Era lo stesso Di Death and Rebirth E quando C'è stato Lo stacco Pubblicitario Che qui È sancito Anche dai titoli Di coda Perché sono proprio Due episodi Quindi sono partiti I titoli di coda I giapponesi Su l'alzare Se ne sono andati Perché erano Convinti Che D. End of Eva Fosse Quello che avevano Già visto In Rebirth Con qualche minuto In più Per questo Idea Che hanno Mette questa scena Nel film E dice Voi siete proprio Cretini Non capite Un cazzo Siete proprio Cretini Io immagino I de Aikian Che è costantemente Frustrato Perché parla A un pubblico Che non Lo capisce Ma non lo capisce Dall'inizio Ma zero Ovo Così E capisci tu Niente Niente E quindi Uscirono dal cinema Senza guardare La seconda parte Di End of Eva Che è l'episodio 26 Primo Quindi tutta la fine Eccetera Eccetera Ah proprio Aveva un popolo Straordinario Ah bisogna andare A vivere in Giappone Ragazzi Sì sì Il sadismo L'avevi beccato Chiaramente Perché poi Lo è Lo è La vera Incomunicabilità Non è tra i personaggi Di Evangelio Ma è tra Anno E il pubblico Vabbè ma Anno Appunto cerca Di trovare un ponte Comunicativo Cioè fa questa serie Proprio per parlare Con gli altri Per dire la sua Su quello che pensa Del pubblico Degli otaku Stessa voglia di ribadire Sì 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 Esatto esatto Come Lynch Bravo bravo Per deluso i fan Mettendo le scene reali Dei fan delusi Nelle sale Ci sta Perché comunque È un suo atto creativo Questo finale E' giusto che lo rivendi Però c'è da dire Che se devi spiegare Troppe cose Probabilmente c'è un problema Nella struttura narrativa Questo è quanto Il mio punto di vista Sul finale Rimane lo stesso È un finale Sicuramente interessante Non credo Si potesse fare di meglio Per quanto riguarda Il discorso del budget E il tempo Quindi onore a loro Ma effettivamente Adesso Avendo anche questo Abbiamo una visione completa E se La serie Avesse avuto un finale Anche includendo Quello happy ending Ma Utilizzando Le tempiste che ci sono In questo The End of Evangelion Sarebbe stato Comperamente diverso Cosa succede In questo film Ariano Aldunque Innanzitutto parte Con una scena Che è veramente Terrificante Asuka Stesa sul letto Di ospedale Con una camicetta classica E Shinji Cercando di strattonarla La vede nuda Qui si vedono i capezzoli Si vedono anche Degli ottimi piedi Complimenti qui Ai disegnatori Bravo Lui rimane Totalmente Affacinato Da questo corpo morto Fondamentalmente Anche se non è morta In un meraviglioso Fuoricampo Vediamo poi Il Seme Che è anche Secondo me Un presagio Del finale Spero Sono un mostro Mamma mia Mamma mia Quella scena Di lui che si fa Una sega Mentre lei sta Comatosa Sul letto Quanti tra voi Lo avrebbero fatto Immagino molti Ma Seme E infatti Non a caso Asuka E il nostro caro Shinji Saranno i nuovi Padri di questa Nuova forma Dell'uomo Nuova che però In realtà è simile A quella precedente Proprio perché Shinji sceglie Di rimanere Fedele A quella che è La sua natura Il film è estremamente Violento C'è violenza Tra esseri umani Cosa che non si era vista Nella serie Si direi effettivamente La prima volta Che si vede Della Esplicita violenza Tra esseri umani Che non compare Nella serie Ma che comunque È sempre citata Perché ricordo Tokyo Era stata Completamente distrutta Da un conflitto Non si sa Con quale nazione Quindi comunque Insomma Degli uomini Avevano cercato Di distruggere Altri uomini In generale Sono nati Diversi Conflitti Nel mondo Dopo che c'è stato Il secondo impact Solo che Non vengono raccontati C'è soltanto Una scena Dove Tokyo Viene distrutta Citazione ad Akira Poi E poi basta Per il resto Si vede soltanto Loro che combattono Contro gli angeli Nient'altro Ed è la prima volta Che si vedono uomini Combattere contro altri uomini Sì 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 Nel film Qui Non ci sono lotte Tra Razze Quindi angeli E Pili di Lilith Sono uomini Contro uomini So che non avete apprezzato Moltissimo Le mie letture religiose Però io Questo ci vede Questo mi dico ragazzi Inutile che vada a ripetere Parole di No vabbè Ma ci stavano Comunque Fanno parte del Del corpus di Eva Altri Soltanto per imparare il film Credo che Un elemento importante Di questo film Sia la diversa concezione Che gli esseri umani Hanno Di giorno del giudizio Day of judgment Ognuno Vede questo Episodio A modo suo Gendo lo vede in un modo Quindi con Adam Al suo interno Vuole fondersi Con Lilith Attraverso Ray Per portare il tutto Ad una conclusione Che lui ha scelto La stessa cosa Viene fatta dagli uomini Che decidono Di scegliere Questo futuro Per l'umanità Ovvero questo famoso Perfezionamento dell'uomo Di cui si parlava anche Nella serie precedente Che ho ovviamente Tenuto fuori Per approfondirlo meglio qui Quindi una coscienza unica Priva di individualità L'unico modo Per preservare La razza umana L'unico modo Per non Cadere più Nell'errore L'essere umano È terribilmente Difettoso Per questo vi dicevo Anche che è una sorta Di scarto Generico Un errore Il fatto è che Shinji Chiaramente nel finale Sceglie Dopo aver visto Questo mondo Privo di identità Sceglie Di rimanere Fedele A ciò Che è L'essere umano Per come noi Lo concepiamo Quindi Un esempio Esattamente come dicevo prima Perché comunque Lui non potrebbe percepire Nient'altro Che se stesso Noi conosciamo il mondo Nel limite Di quello che ci è concesso Dal nostro corpo E che cazzo di scelta Doveva essere Infatti La sele Puntava All'immortalità Gendo Puntava Alla Catarsi Shinji Che è un ragazzo Di 14 anni Io penso Solo a scopare Frate Mi hai fottuto Un cazzo Di diventare Un super uomo Fammi scopare Ridammi il cazzo Essere Individuale A tratti Anche Individualista Ed egoista Ma Anche grazie al finale Della stagione precedente Che abbiamo Che Proprio perché qui Vengono ripresi Alcuni concetti Semplicemente Non estesi Lì Proprio perché Il suo ruolo sociale Esisterebbe Anche fuori Dal discorso Il suo pilota Era E Il fatto che L'umanità tutta Diventi Un'unità unica Che scena questa Ragazzi Che scena Qua i De Haki Hanno si è inventato Proprio una cosa Nuova Questa roba qua Questo Non si era mai visto Nell'animazione giapponese Questo non si era mai visto Una roba così Eppure è tutto copiato Ciò ve l'ho detto prima Questo è Ideon Palesemente Ideon Ma Fatto così Poi chiaramente Sempre sesso L'occhio Sulla fronte Che diventa una vagina Lei c'ha le stimmate Che sono le Porte del gaff Che in realtà Sono sempre Delle vagine Perché tutto passa Attraverso la femminilità E d'altronde Le donne Sono il centro Di Evangelion Tutto Anche al di fuori Della serie Proprio nella Vita reale Se non ci fossero state Le cinque doppiatrici Del cast principale Di personale Maggi C'è la doppietrice Di Shinji È una donna In giapponese Doppietrice di Rizko Asuka Misato E Rei Evangelion Non sarebbe Quello che è Sì Wow Molto Molto Cronenberg Molto Top Videodrome Sì 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 Molto Cronenberg È esattamente Equivalente Al nulla Ed è anche un po' Il concetto Se vogliamo Degli incredibili Se tutti fossero super Eroi Sarebbe come dire Che nessuno lo è Ovviamente È un concetto Similare Qui è un po' Più complesso Chiaro 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 È essenzialmente Questo Dal punto di vista Estetico Il film è magistrale È un vero e proprio Caffo Questo poi è Karel Tue Grande artista Proprio ripreso Esteticamente Da Karel Tue Bello 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 Questo rosso Così potente Il momento in cui Lo 0-1 Diviene un vero e proprio Satanas Tutte le sequenze Qui Alcune oniriche Alcune che mostrano Questo Universo alternativo Tutta l'ascesa Poi fra l'altro Quella scena Dell'Evangelion Con le ali Enormi È chiaramente Ripreso Dagli Dei Volanti In Nausicaa E la Valle del Vento Però dal Dal manga Perché Non credo proprio Se si vedano Nel film Se non sbaglio Credo si vedano Soltanto nel manga Vorrei dire una cazzata Però mi sembra così Gli dei I dei guerrieri Così giganti Con queste ali Sicuramente Anche Adesso che ci penso Stiamo parlando Del finale La mamma di Asuka Kyoko Zeppelin Si chiama La mamma di Asuka Che ha La bambola No È come La mamma Di quella Di Nausicaa Non mi ricordo Come cazzo si chiama Sempre nel manga Però è quello Molte cose Vengono da là Perché poi Vabbè Lui aveva lavorato Allo studio Ghibli Quindi È rimasto influenzato Da quella roba là Di questa rei Il conflitto Tra luce e ombre Ci troviamo di fronte Ad un film In cui il nostro protagonista È totalmente In uno stato Amedico Non ha veramente La forza di fare un cazzo Al pari di unikikomori Quindi non vuole Rapporti con gli altri La teoria del riccio No Viene anche menzionata Nella stagione Quindi è senz'altro Una metà Eh Jogs Dilemma Eh sì Direi Direi che Shinji Qua è più Idea Che hanno Nel senso che Mi avete costretto Proprio a ritornare In questo mondo Cosa che io Non avevo voglia Di fare Brutte Merde Ero così felice Di essere odiato Perché non capivate Evangelion Invece adesso Abbiamo fatto i soldi E devo tornare a spiegare Evangelion No io voglio stare In uno stanzio da solo È tutto questo È importantissimo C'è anche da dire però Che rispetto a tutti Quelli che mi hanno detto Sì Tutto il discorso Dei robot Eccetera È un po' Megafin Perché il regista Ha detto questo Lo sceneggiatore Ha detto questo Sono d'accordo Credo però Che non sia neanche giusto Eliminare tutto questo So che Tutti quanti Gli elementi Religiosi Sono stati inseriti Per un determinato modo Per dare colore Si vede anche Fatti l'ignoranza Da parte di hanno Per quanto riguarda La conoscenza Di alcune cose Che sono utilizzate impropriamente Come avevo detto Anche dei magi Ma non solo Quindi si vede Che siano molto spesso Dei nomi buttati lì Però Vabbè il fatto è che è fico Cioè è semplicemente fico E poi anche qui Sempre una cosa Molto giapponese Un'inversione Dei ruoli Cioè i magi Che sono comunemente Associati a delle figure Maschili Sono in realtà Le tre parti Di una donna Dei super computer Sono ispirati Alle Ai tre lati Di una donna Di Naoko Cioè già soltanto Questo crea Un motivo Di fascinazione Eh come dice Bimba Bord In chat Lo vedi Cioè È una cosa Che ti dici E già Per essere Strano Diventa affascinante Anche Tutti questi concetti Cancellarli completamente Per mettere Soltanto In rilevo La psicologia Di Di Shinji È vero Ma fino a certo punto Perché anche Tutto il concetto Genetico Della natura umana Cioè È presente E questo Ovviamente Per parlare di questo C'è la necessità Di parlare Dei genitori Dell'umanità E infatti Secondo me Il finale Di questo film Parla proprio di questo Quindi Shinji In grado Di scegliere Per il futuro Dell'umanità Io continuo a chiamarla Umanità Qualcuno mi ha detto Sì ma I figli di Lilith Siamo noi umani Quindi perché Dici i figli di Lilith Sì siamo noi umani Ma secondo Il mondo del film Siamo i figli di Lilith Qui Vabbè Stavo dicendo la stessa cosa La gente Che cazzo devi precisare Sta dicendo la stessa cosa Vabbè Ha detto bene Mar I umani sono intesi Come figli di Dio Per chi crede Oppure semplicemente Terrestri Perché mandi sulla terra In seguito Alla teoria darwiniana Ovviamente però I protagonisti Rappresentano noi Quindi è semplicemente Un diverso creatore Anche il first impact Non è altro Che il big bang Probabilmente Quindi No Il first impact Non è il big bang Ma è l'arrivo Della luna bianca Mi correggo Della luna nera È quello che poi Ha Secondo Le teorie Più Acclarate Creato La luna Infatti è proprio così Cioè Nella storia Raccontata Spiegata Di Eva È proprio detto Che arriva Questo meteorite Si schianta Sulla terra La luna nera Scende e cade In quello che In futuro diventerà Il Giappone Ad Akone Precisamente Dove poi Verrà fondata Neo Tokyo 3 E questa massa Di meteorite Continua Il suo tragitto Fino a Non riuscire a staccarsi Molto dall'orbita Della terra Diventa proprio La luna Shinji Sì sì Il primo arrivato È Adam Però era una cosa Programmata Cioè È un meteorite Che arriva lì Cioè era Stato calcolato Che poi non avrebbe Dovuto fare Danni Cazzate Del genere Vabbè ragazzi Gli alieni Hanno programmato Dove arriva La luna Di Adam Ci arriva Tutto a posto Quello è uno sbaglio Che arrivi anche La luna nera Non si sa perché Fra l'altro Vabbè anche questo E diventa Il first impact L'incidente Di percorso Ok Comunque è impossibile Di vedere serie Rebuild Film Videogiochi Fumetti Dichiarazioni Ecco perché parlo di film Opera Computer Vaffanculo Eh sì ma con i manga È così Con i manga e con gli anime Non esiste nemmeno una sola Visione Cioè ci sono Autore Scrittore E Disegnatore E di Non voglio spoilerare Però vabbè Dico Magari lo conoscete Magari no Però C'è un elemento Chiave Di Rocky Joe Su cui Sono in disaccordo Scrittore E disegnatore Ci hanno dato Due dichiarazioni Opposte È tutto molto Complesso Casino Ha in mano La scelta Cosa fare Tirarsi indietro Rinunciare alla propria Individualità Perché è troppo difficile Il rapporto con gli altri È troppo difficile Fare delle scelte Buttarsi in questa condizione In cui siamo tutti Tutto Ergo Non c'è la responsabilità Individuale Dopo glielo passo quel video Oppure Con tutta la storia Del passato Fallibile Debole E Assolutamente Imperfetto Come dicevo Materiale di scarto No Esperimento fallito Come Essere umano Ovviamente sceglie Questa opzione E Dopo Queste sequenze Veramente Magniloquenti Meravigliose In campo Lavoro estetico Mamma mia Ecco Un'altra prova A sostegno Del fatto che Idea che hanno Lo può anche negare Oppure può dire No Non è vero Ma sti cazze Insomma Questi sono palesemente I monoliti Da 2001 Di Stia Nello Spazio Ma ci sono anche Altre Citazioni grafiche A 2001 Poi dice che non è vero Vabbè Che rincoglionito Immagino Non voglia dire Che sia ispirato A cose Estere Le cose giapponesi Le dice tutte Quante Fanti Ultraman Incredibile Bellissimo Ultraman Straordinario Pazzesco Oppure Nausicaa La puta Ragazzi Il La gemma Che fa muovere Il castello Nel cielo Nel film di La puta È praticamente L'angelo Dodecaedro Che cazzo è Che appare Quell'angelo blu A forma Che è un Dodecaedro Non lo so Di una cazzata Non lo so Non mi ricordo Quanti cazzo Il lati ha Comunque È anche una roba Che si vede In Urashiman Poi Devilman Dicono Esplicitamente Sì volevamo fare Il finale Come Devilman Detonator Detonator Orgun Che è una Ispirazione Sai per cosa Marra Per quello che dicevi tu prima Del fatto delle esplosioni a croce Non è una cosa cristiana È una cosa che viene fatta in Orgun È un anime robotico Esplodono così Con le croce Quelle tutte Tutte Fino a quando si tratta di roba giapponese Sì sì Onestissimi Appena dice Ottaedro Ok Appena Si tratta di questa roba qua Che è tutto Kubrick No Sono rimasto influenzato Tutto quello che ho visto da bambino È Dici Mocca Kit & Murth Che hai copiato Dici Tanto si vede Si vede Non è che uno non se ne accorge È Ramiel Esatto Esatto È Kubrick Che è stato influenzato da anno Con un viaggio nel tempo Sicuramente Sì Sicuramente Kit & Murth Ma che ho detto Gli ho scuso Ma come hai fatto a cambiare nickname così in fretta KTM Knill morto Oh ma fra l'altro Guardate qui Ecco Questo Secondo me È molto più rivelatore Di tante altre cacate Guardate Knill Come era combinato Praticamente Ha un corpo Metallico Tutti organi sostituiti Cibernetico Quasi un cyborg Perché avevano questo desiderio No? Di vivere in eterno Cioè Puntavano a questo Con il piano del Perfezionamento dell'uomo Di diventare insieme Qualcosa che avrebbe superato L'umanità Puntare all'immortalità Cosa che poi Gendo non voleva Perché Gendo voleva morire E basta Vediamo che L'umanità Risorgerà Probabilmente Da i nuovi Lilith e Adam Quindi Shinji E Asuka Qui si vede anche Il crollo Di Gendo Che Nella serie precedente Come avevo detto Era sempre stato un personaggio Monolitico Qui invece sul finale Si rende conto Probabilmente di aver sbagliato tutto E lo dice proprio Mi merito questo trattamento Sono soltanto un uomo Accecato appunto Dall'amore eterno Verso questa donna Dalla voglia Di sentirsi Dio Di aver fatto il passo Più lungo della gamba E qui in un certo punto Crolla anche tutto L'ultimo personaggio Che era rimasto monolitico Prende invece Incredibilmente forza Rey Che finalmente si stacca Dal costrutto che era E diventa Beh è anche vero Che questo è Rey 3 Non è Rey 2 Che Si fa degli scrupoli Perché ha imparato Ad amare Rey 3 Non ha imparato ad amare Per questo Diciamo E anche contro La volontà di Gendo Gendo è totalmente Un coglione Che crede ancora Di poter avere potere Su Rey Che ormai Dà più ascolto A ciò che ha dentro E' interessante pure Notare il fatto Che tutte le Rey Hanno Lo stesso aspetto E lei Tutti i cloni Lo stesso aspetto Lo stesso livello Di decadimento Cioè voglio arrivare A questo Chiaro Hanno lo stesso aspetto Tutti i cloni Lo stesso livello Di decadimento Lei sta male Durante End Perché si vede Si capisce Proprio che La sua forma Umana Clonata Non doveva durare Più di quel tempo Necessario Dopo che Tutti gli angeli Sono arrivati E loro sono riusciti A sconfiggere Per fare il cazzo Che volevano Con Il corpo Di Lilith E quindi creare Il third impact Comandato Attraverso Il materiale genetico Di Adam Da Gendo Per riunirsi A fare questa Catarsi Di spiriti No? Però ormai Questa Rey Rey 3 Che è meno Rey E più Lilith Dice Vabbè Affanculo Un essere A tutti gli effetti In grado Di scegliere Questo perché Perché Sempre legandomi Il discorso che avevo fatto Dei replicanti Degli impianti di memoria Lei prende coscienza Esattamente come Tutte quante Narrazioni Della distopia La macchina Un replicante Piano piano Avendo sempre più conoscenza Avendo ricordi Avendo delle simulazioni Di sensazione umana A un certo punto Prende coscienza di sé E prende coscienza Della propria libertà Come succede anche In Prometheus e Covenant Infatti Rey Si fonde con Lilith E diventano Questa entità Potentissima Sul concetto Di giorno del giudizio Per qualcuno Esiste la risoluzione Della carne Per qualcun altro Dello spirito Per qualcun altro C'è l'assenza Del paradiso Per altri C'è la reincarnazione Ognuno di noi Ha una diversa concezione Della fine È difficile per un essere umano Accettare Non solo la morte Ma L'assenza Della propria esistenza Nel mondo Quindi il fatto che Il momento in cui Si muore Si scompaia Definitivamente Si diventi cenere Siamo sempre portati a pensare Che ci sia un qualcosa Dopo I Shinji Alla fine sceglie Cosa Sceglie proprio questo Di farci Rimanere Quelli che siamo Seppur in una forma diversa Magari Perché loro Essendo i nuovi Genitori Di questa specie Porterà Ad una specie Magari diversa Comunque sempre Difettosa Perché è nata Da un essere Estremamente fragile E difettoso Proprio come Shinji L'utilizzo Della colonna sonora Anche Quindi qui ci troviamo Veramente Di fronte Ah è una buona riflessione Questa Vabbè Tanto siamo tutti Imperfetti Sono i perfetti Anche Anche la razza Ancestrale È imperfetta In realtà E questo lo capisci Dal fatto che Accade Quello che accade Una cosa Che non doveva succedere L'incidente di percorso Vuol dire che Anche loro Sono fallibili Anche loro Che sono Al di sopra Prima li avevo Identificati Con Il carattere Di Elion No Che loro Penso sempre Un dio Il dio Il dio Che sta sopra Questi che stanno sopra Che effettivamente Esistono Sulla razza Ancestrale Alla fine Hanno sbagliato Anche loro No Capolavoro Estetico Anche filosofico Se vogliamo Tutto quello Che mi avete scritto Ha assolutamente senso Sono d'accordo con voi Immagino anche L'impatto Che una roba del genere Abbia potuto avere All'epoca Per un ragazzino Ho letto anche Molti di voi Che mi hanno scritto E mi ha salvato In alcuni momenti difficili Ma voi Cioè è stato Per me L'anime Che mi ha fatto Diventare Otaku Sicuramente Perché comunque Tralasciando Tutti gli anime Che avevo visto Da ragazzino Quelli sulle reti regionali Quelli della Tatsunoko Che poi c'entra sempre Con la Gainax In qualche modo A livello di produzione Magari altre cose Tipo i Cavalieri Dello Zodiaco Eh Un botto Erano i miei preferiti Più Dopo Sicuramente Diventato Dragon Ball Il mio preferito Quando poi Lo hanno dato Sulle reti Mediaset Però sulle reti regionali I miei preferiti Erano i Cavalieri dello Zodio Assolutamente Però sono quelle cose Proprio infantili No? Di battagli Ma quando poi Ero nell'età Della Consapevolezza Guardare Neon Genesis Evangelion Io c'ho questo ricordo Incredibile Di me Che mangiavo Un panino C'è una cosa assurda Doveva essere Estate Per forza Io mangiavo Un panino Era un panino Con patatine Salsiccia E provola Ma ero ragazzino Perché era proprio La trasmissione televisiva Sto parlando Dei primi 2000 2001 Credo 2000-2001 E c'era Una scena Implicita Di grande Sessualità Strana Proprio Per me Abbastanza anche Inquietante E io ero solito Cioè fare Questa cosa qua Cioè dopo Mentre guardavo La puntata Aprivo il panino Non lo mangiavo Intero Cioè per Proseguire Quel momento Io aprivo il panino E cominciavo A tirare fuori Le patatine Una alla volta Per mangiarle Poi mangiare Il resto Non so perché Ragazzi Non so perché Lo facevo Però boh Dopo che visto Quella puntata Di Eva Boh così Come alleggerire Un trauma Sì sì Fammi chimica Non lo so Comunque Anime Night Su MTV La fine del mondo Ha diciamo Segnato un po' tutti Era una puntata Io non mi ricordo bene Qual era la puntata Però C'era una scena Di sesso implicita Doveva essere Il finale Credo Intorno al episodio 24 Una cosa del genere Un flashback Di Misato Nella testa di Shinji Una cosa del genere Sì Ho fatto riflettere molto Sulla mia individualità Sul fatto di dovermi Comunque Mettere in gioco Di non potermi Trincerare In questa sorta Di omeostasi E immagina Immagina Io l'ho vista adesso Ho praticamente 30 anni Ho 29 anni E mi è arrivato tutto Nonostante abbia superato Questa fase Che poi è tipicamente Adolescenziale Dell'incomprensione Del mondo Che ci sovrasta Il fatto che tra l'altro Io ho detto Nel video precedente Che non ci viene spiegato Perché abbiamo 14 anni Non so se lo facciano altrove Però sicuramente È una provata Per fare medesimare I ragazzi di quell'età Nei nostri protagonisti Ciò non togli il fatto Che anche persone più adulte Possano rivedersi In questo personaggio Però è indubbio Che si voglia parlare Anche di questo E la fase adolescenziale Che è Come dice anche Calimberti Tra l'altro La più complessa La più tragica C'è questa narrazione Della bellezza Della adolescenza Cioè immaginate Che io alla stessa età Di Shinji Guardo queste robe E chiaramente Sto male Guardandolo Nel momento Sì sicuramente Pieno di Positività Ma effettivamente Per l'adolescente Quello è un percorso Traumatico Dove Detto Bimabora Della adolescenziale Però l'ideaki Ha superato da poco Quella fase Infatti Adesso sta diventando Adulto Ora che È diventato Molto molto vecchio Rispetto a Prima insomma Dove si deve scoprire La sessualità È tipo invecchiato Tutto ad un botto Se ci pensi E qui è presentissima Dove si deve scoprire Il proprio ruolo sociale E qui è presentissimo Dove Bisogna fare i conti Con la responsabilità Se ce l'abbiamo Potremmo anche Vederlo così Evangelio Un percorso Di consapevolezza Della fase adolescenziale La fase successiva Se vogliamo Attenerci A questa dichiarazione Qui Ovvero Tutto è un orpello Si parla solo di questo Va benissimo È anche intelligente Utilizzare Anche nella poetica Di anno Tra l'altro Perché ha fatto lo stesso Con Godzilla Però la recensione Anche di Shin Godzilla Bello Vai Un macrocosmo Gigantesco Quindi mecha Contro cattivoni Robottoni Tecnologia gigantesca Per parlare in realtà Di un microcosmo Quindi Il percorso Di un ragazzo Un percorso Autorescenziale Di un ragazzo Ci potrebbe anche stare Credo però che Comunque L'opera viva Anche fuori dal suo autore Quindi la morte dell'autore Nel momento in cui L'opera esce Dovremmo staccarci Dalle digrazioni Degli stessi autori Altrimenti dovremmo dire Che l'ET Modificato da Spielberg Sia migliore Di quello fatto E'ET di chi è? Di Rambaldi? Di Rambaldi o di Spielberg? Sì sì Chiaramente Sono d'accordo Nel senso che Vabbè Non ci deve essere Una morte dell'autore Però Voglio correggere un attimo La mia affermazione Bisogna Comprendere Ciò che vuole raccontare Il regista Lo sceneggiatore Anche l'animatore Perché pure gli animatori Fanno le cose In un modo diverso Da un altro animatore Perché Racconta il corpo Umano O Il mostro In una maniera Differente Più morbida Più realistica Più dura Cioè Bisogna Prenderci per mano Camminare Nella storia Assorbire E poi Camminare Anche da soli E lì Si Staccarci Dal Dal regista Perché poi a volte Soprattutto per gli anime Per i manga Tutto quello che viene detto dopo E' per mettere Una pezza a colori A tutte le cose Che hanno fatto prima Che erano fatte senza senza Make di E.T. Fatto lo stesso Spielberg Lui stesso ha detto Che il suo remake Sia migliore del primo Quando fa vomitare Vabbè Un matto Spielberg Vabbè poi Nella versione Aggiustata Di E.T. Ci sono Quelli dell'FBI Che avevano i fucili Nella versione aggiustata C'hanno Che cazzo c'hanno I walkie talkie Tipo un walkie talkie In testa Stronzo Naturalmente folle Vabbè poi E quello là Tutta una parabola Sulla Sulla Germania nazista E O straniero In fondo D'altronde Nient'altro che un parallelismo Con l'ebreo Nascosto dentro la casa Dei tedeschi E' bello E.T. Non sta troppo sul cazzo Non lo sopporto In precedenza Alcune dichiarazioni del cazzo Fatti dai registi Sui propri opere Però Ovviamente Le ascoltiamo Le teniamo in considerazione E' anche sbagliato Fare l'opposto Andare a fare Delle decodifiche Abberranti Come dicevo Umberto Eco Quindi Tirare fuori Veramente la qualunque Dall'Anghelion Quando molto spesso Sono di concetti Semplicemente Buttati lì Anche Non Estremamente approfonditi Un po' banalotti E renderli tutti Veramente qualcosa di incredibile Che non so Il pinguino Quell'animale domestico Che è messo là Come critica Sì Per carità Si può trovare Per me E le evidenti Critiche sono Sicuramente Ambientalista Sicuramente Militare Anche perché Sì è vero Il discorso Degli picomori Dell'utaku Ma Ricordatevi anche Che tutte le guerre Hanno distrutto Tantissimi Giovani Che sono stati portati A fare questo Proprio perché Convinti Di avere quel ruolo Quindi anche questo Secondo me è fondamentale Anche il discorso religioso Inteso come Voglia Di comprendere Cosa c'è Oltre Chi ci ha creato Innanzitutto Il discorso di Volere essere come Dio Provare a replicare Un Dio E fatigendo poi Perisce Perisce proprio Per colpa Di questa sua Iubris Porta di Icaro Se vogliamo Quindi i temi sono tanti E Definire tutto Evangelion Come è soltanto Il percorso psicologico E riflessione Della depressione Dell'autore E l'ipicomori E l'otaku E il discorso adolescenziale Secondo me è sbagliato Mia persona Opinione Sì 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 Chiaro Non Ricondurre Evangelion Solo A quello Diciamo Quella è La miccia Che dà fuoco A tutto Però Un anime Naturalmente È fatto Di tante persone Non è fatto Soltanto Di idea Che hanno Infatti Alcune cose Presenti nel film In End of Eva Che mi sembra Che mi sembra Abbiamo toccato Molto poco Qui Forse l'abbiamo fatto Più prima Effettivamente Quando si parla Della serie Anche perché La serie è molto Povera Meglio parlare Di End of Eva Ci sono delle cose Inventate proprio Sul momento Tipo Non presenti In sceneggiatura Come la famosa Battuta Di Direi Che Uscita Dal Mare Rodo Primordiale Insieme a Shinji Shinji cerca di strozzarlo Un'altra volta Perché comunque Non si capiscono Sempre L'incomunicabilità Sempre La diversità Maschio Femmina Impossibile Trovare un punto Di contatto Che poi viene creato Proprio da Asuka Che Finalmente Mostra Un gesto Di gentilezza Nei confronti di Shinji Che Te la salva Sostanzialmente Perché stava per ammazzarla Sua carezza Lui piange E lei dice Che schifo Quella battuta Iconica Fantastica Incredibile In realtà Era Molto diversa La battuta iniziale Doveva dire Tutta una frase Complessa Eccetera Ma Ogni volta Che l'attrice La recitava Veniva una merda C'era quando Idea che hanno Non le ha detto Senti Immagina Che tu stai dormendo Ti svegli E ti trovi Sopra Uno Che ti vuole Violentare Tu che pensi E l'attrice Ha detto Che penso Che schifo Idea che hanno E ha detto Mi piace Bravo Dici questo Quello è il finale Del film Se lo sono inventato Lì In sala di doppiaggio Tre minuti Vai Non c'ho tempo Inventiamoci qualcosa Che fai Si si parlava Napoletano Idea che hanno Chiaramente Sì si si dottore Sono d'accordo Sul fatto che Osservare L'aspetto Psicologico Dell'opera Va bene Ma non bisogna Concentrarsi Solo su quello Lo abbiamo Ripetuto Anche prima Chiaramente Marra dice Io quella cosa L'ho intesa In maniera particolare Se vuoi Ti chiamo Tre secondi Così mi dite La vostra Perché non l'ho detto Vai Chiama Chiama Vai Chiamata in diretta Il video si è finito Manca un trenta secondi Ma aveva esaurito Vabbè giustamente Di Evangelion Secondo me Si possono toccare Tanti punti Anche la La brutalità Della specie umana Giustamente Diceva il dottore Reazionismo Evoluzionismo Soprattutto la brutalità Che poi Si vede spesso Ecco Cioè Davide Ciao Davide Dottore Ti senti bene? Sì sì benissimo Ti sentono anche loro bene Ciao ragazzi Allora Allora Tu come l'ente Su sto finale Del che schifo Potete dire la mia Al di là di quello che sai A livello produttivo Ok Al di là di quello che effettivamente È accaduto Sì Cosa trasmette in sé Al di là di quello che sai Staccati dalle tue conoscenze Extra Filmiche Guarda per me è complicato Perché effettivamente Io Cioè percepivo Un qualcosa di Di molto Negativo Prima di tutto Perché lei Non voleva Assolutamente Stare Insieme a lui Cioè quella cosa L'ho visto come L'ennesima Ripetizione Di un rapporto Che Non può Funzionare Ma che deve andare Avanti Chiaramente Perché mantenere Diciamo Le apparenze Giapponesi Sai questi fatti qua Ok Io l'ho visto Esattamente all'opposto E' per questo Il bello La fine Sì Per questo Mi ha interessato Ovvero Lei A mio modo di vedere Ha un po' L'atteggiamento Che hanno i ragazzini Le ragazzine Nei confronti Dei ragazzini Cioè Che schifo Importunano sempre Magari il ragazzetto Che ci prova con loro Dicendo che schifo Ma in realtà Sono attratte Quindi lei Durante tutta la narrazione Costantemente Deve dire Stupiscinzi Stupiscinzi Se uno non ti interessa Veramente Non lo caghi Chiaro Lei lo provoca Per avere attenzioni Cioè A certo punto Lo bacia E poi dice Che schifo Quindi va nel letto suo Quindi è proprio Quel tipo di rapporto Neanche adolescenziale Pre-adolescenziale Perché lei Secondo me Si è bloccata E tra l'altro Parla di questo Cioè Alla fine Anche quello Che lui parla Quello di cui parla Sono degli adolescenti Che però Non stanno facendo Le tappe Dall'adolescenza Quindi in realtà Sono dei bambini Cioè Sono dei quattordicenni Ma sembrano dei settenni Tutti molto piccoli Quindi lei magari è Lei magari è Sessualmente più aperta Ma in realtà Non è comunque Pronta Matura Si illude di essere tale Ma non è matura Cioè Lei Che si illude di poter scopare Con quello più grande C'è la scena esplicita In cui si spoglia davanti A Si accaggi Si accaggi Quindi io Quel stato schifo L'ho visto Innanzitutto Come un voler ribadire Perché l'ha detto A lui Mi fa schifo Ma in realtà Non è così Un po' sono contenta E soprattutto Aiuta Per quello che dicevo Ovvero Il finale Riporta Alla Carnalità Umana Che sceglie Lui Quindi lei Si stacca sempre Da questa carnalità Con Shinji Ma in realtà L'apprezza Quindi che schifo Ci stiamo toccando Non siamo più Quella forma Entità unica Dove non c'è più sessualità Siamo tornati Alla sessualità Alla bava Quindi che schifo Ma in realtà È questo che siamo Essere umani Ok quindi Praticamente Chi disprezza Vuol comprare Esattamente Vedi Come sei sintetico Ok 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 No ma è interessante Comunque questo Perché effettivamente Il tuo È un pensiero Che non è filtrato Da tutto quello Che noi sappiamo Della cultura Giapponese Che poi viene dai manga Dai yame Quindi comunque Aggiungi del tuo Alla critica Che secondo me Fa solo bene Si Ciao C'è un narcisista Morirei lo specchio Segandoti Si si Sicuramente si Vabbè 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 No niente Ho finito di rompere il cazzo Commenti incredibili Si 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 Bannato subito No no Ma lascero Ma sti cazzi Non mi diverto Va bene È solo questo Non mi rompo più il cazzo Dai Grazie a te Grazie mille Mi è interessato molto Il tuo punto di vista E ci rivediamo Per la recensione Di Shingozilla Che farò sti giù Perfetto Dai Dai Grazie Grazie Ciao 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 Davide Ciao Ciao ragazzi Ciao Comunque Chiudiamo un attimo Il video Giusto per dare Piena onestà Al contenuto Ridurlo intendo Non che non sia così È così sicuramente Ma c'è anche tanto altro Questo è quello che volevo dirvi Grandissimo film Ci vediamo prossimamente Farò la recensione di Shingozilla E sul Cerbero siamo tornati oggi E parlerò anche di Rebuild Vedremo tra l'altro insieme Il prossimo In uscita in Watch Party Su Amazon Grazie ragazzi Attendo sempre i vostri commenti critici Mi piacete così Grazie mille Mi aiutate molto a comprendere Tante cosine Dai Abbiamo avuto l'occasione Di discutere Di alcune cose Di precisarne altre Che magari non erano Proprio evidenti Direi Una serie di 25 anni fa E se ne può parlare Ancora Per tre ore Ma tre ore non bastano Tre ore non bastano Adesso abbiamo Secondo me Scalfito la superficie Ma Analizzare I Rebuild Ragazzi È molto più complesso Analizzare i Rebuild Film dopo film È molto più complesso Che analizzare Tutta la serie Perché tutta la serie Poi in realtà È molto esigua Molto ermetica In quello che racconta Un po' per questione di budget Un po' perché Non sapono manco loro Che cazzo stanno raccontando Ma una volta coscienti Di quello che effettivamente Erano le potenzialità Di Evangelion Idea Che hanno Ha spinto L'acceleratore Su I simboli I significati I simulacri Le immagini Ma sono delle cose Che Lo so che Il Rebuild Senza la serie Non ha senso Lo abbiamo detto anche prima L'ho detto anche prima In un afflato di Verità No? Perché È bello Ma non può esistere a sé Se non c'è La serie Non avrebbe senso No? Lo